C'è una complementarità totale. Da molto tempo ormai le nostre riunioni di Ministri della Difesa, quando andiamo in Europa oppure alla Nato, viene l'altro rappresentante, operiamo in modo che non ci siano sovrapposizioni. La Nato è un'alleanza militare, l'Europa è un'altra cosa e può avere un approccio comprensivo, per esempio nella prevenzione delle crisi invece che in un intervento militare dopo che la crisi si è realizzata. Quindi pensiamo a quello che sta avvenendo nel Mediterraneo. Nel Mediterraneo c'è una missione europea che è Sofia e c'è una missione della Nato nel mare Egeo. È stata la proposta italiana che ha fatto sì che ci sia un coordinamento per rendere sinergiche le missioni che hanno lo stesso scopo, cioè combattere gli scafisti e la rete criminale che sta dietro al dolore dei migranti. Quindi basta pensare alla logica ed è facile immaginare come si possa tranquillamente rendere complementari e non competitive non duplicando quindi comandi Nato e Unione Europea.